ed eccoci bentornati a quanto ne sai edizione speciale per una terra che molti di noi amano hanno frequentato durante le loro vacanze è il posto di provenienza per molti che stanno vedendo questo video oppure è una terra che conosciamo per i propri sapori piccantelli ecco veramente un gusto inconfondibile parliamo della calabria che tipo di rapporto avete con la regione calabria abbiamo tre possibilità